Musica Cominciamo a parlare di musica in questo periodo che da poco è terminato San Rimo, prendiamo lo spunto per parlare più in generale di come viene poi diffusa attraverso gli operatori del settore così come tu lo sei con concerteria da molti anni. Facciamo un passo indietro cominciando da come le case discografiche si rivolgono a voi o i produttori promotori si rivolgono a voi per poter poi portare al pubblico i loro, definiamoli, prodotti. Allora penso alla prima cosa bisogna fare un distinguo fra il prodotto San Rimo e il prodotto che poi diventa live ed esce dalla discografia normale dei musicisti di musica leggera, pop, rock, italiana. Nel senso che il prodotto San Rimo è tendenzialmente un prodotto televisivo che quasi sempre finisce con la manifestazione, ha un riflesso sul mercato discografico brevissimo e non molto diciamo incisivo e quasi sempre poi si riflette soltanto sulla stagione estiva con concerti gratuiti, raramente a pagamento. Per fare un esempio da questo San Rimo io penso che gli unici artisti che usciranno con qualche chance di fare dei concerti a pagamento sono i Modà che già lo potevano fare da prima e che quindi con un po' di consacrazione sanremese, l'affiancamento ad Emma sicuramente potranno ancora meglio funzionare dal vivo a pagamento. E Roberto Vecchioni perché venendo dal cantautorato ed essendo lui stesso un artista che ha sempre funzionato e si è sempre venduto a pagamento, dopo la vittoria a San Rimo c'ha più chance ancora di pubblico a pagamento. Per il resto tutto quello che è uscito da San Rimo io penso che si tradurrà in concerti gratuiti pagati dai comuni o piuttosto a feste di piazza o altre situazioni di questo tipo di mercato, cioè un mercato non a pagamento. Per voi che avete una storia non solo di distribuzione dei concerti che vi vengono proposti ma anche quelle di avete iniziato un po' come biglietteria, insomma c'è questa differenza quindi notate molto questa differenza fra quelli che sono i concerti offerti tra virgolette dall'amministrazione pubblica ai loro abitanti e quello che invece viene ad essere un mercato. Per voi influisce, c'è una differenza, vi reca problemi il fatto che ci siano concerti distribuiti gratis e altri invece a pagamento? Tendenzialmente non è che ci reca specificamente dei problemi o del danno, sono due tipologie di lavori diversi, nel senso che quello dei concerti a pagamento è un lavoro che si chiama promoting ed è quasi sempre un lavoro abbastanza rischioso ma altrettanto affascinante, nel senso che comporta un confronto col mercato al 100% senza nessun ausilio di danno pubblico o altro. Però è pur vero che il danno pubblico finché c'è stato e sembra che da quest'anno ci sarà una forte contrazione, perché il governo ha varato un decreto legge per cui i comuni non potranno spendere più del 20% di quello che hanno speso l'anno scorso in cultura, quindi è sicuro che ci sarà una contrazione fortissima della spesa per gli spettacoli. Quello che si fa invece gratuitamente non è che necessariamente danneggia i concerti a pagamento, anche perché molto spesso quello che si fa gratuitamente a pagamento non funzionerebbe. Quindi sono due segmenti di musica e anche di fruizione abbastanza diversi. Per la tua esperienza napoletana, come hai vissuto questi cambiamenti generazionali? Tu hai nominato i Modà, così come si capisce che sono un prodotto anche costruito per un certo tipo di pubblico giovanile. Come sono cambiate le offerte artistiche che tu hai vissuto sulla tua pelle, da quello che poteva essere considerato ad esempio il napoletan power a quello che attualmente invece sembra essere ridotto solo a un ricordo? Allora, per quello che riguarda le nuove tendenze, quello che hanno portato nel mercato è la capacità da parte degli operatori di essere attenti al livello di mesi, non dico neanche più di anno o due anni o biennio, proprio di mesi a quello che Amici, X Factor e tutte queste tendenze giovanili indicano nel mercato. Perché se uno è attento e coglie per veramente l'attimo giusto, può fare ottimi risultati anche con questa tipologia di artisti. Diversamente basta un po' prima o un po' dopo per essere tagliati fuori dalla possibilità di fare paganti con questi artisti, ma anche di vedere un interesse da parte delle amministrazioni e dei comitati per la vendita di concerti gratuiti. Per quello che riguarda il passaggio dal passato all'oggi, è evidente che ci sono artisti come possono essere Ramazzotti, Vasco Rossi, Ligabue, per citare i più grossi, ma anche artisti minori come i Negramaro, che sono usciti da poco ma ancora funzionano molto bene, o come Antonacci o come altri che hanno ancora una loro fetta di mercato al pagamento molto forte, che sono durati negli anni, chi più di meno, ma comunque hanno avuto una carriera lunga negli anni. Invece tutta questa tipologia di artisti che esce dai contest musicali, televisivi, che proprio perché per loro genetica hanno una vita brevissima, e quindi bisogna, come ho detto prima, essere molto attenti e non sbagliare a prendere questi artisti, se non nel momento topico in cui possono dare i risultati. Napoli come la vedi? È sistemata all'interno di questo mercato nazionale o anche internazionale dal punto di vista musicale? Allora, non vorrei fare di trilogia o essere troppo scontato. Il problema di Napoli intanto è quello degli spazi, in particolare quello che manca a Napoli, ed è sempre mancato da tantissimo tempo, sono i due estremi, potremmo dire. Cioè uno stadio per fare i concerti importanti allo stadio, in seconda battuta un palazzetto dello sport, infatti gli unici palazzetti utilizzati in campagna sono il Palamaggio a Caserta e il Palasele a Deboli, e poi un club, nel senso che in tutta Italia artisti minori, rock, pop, ma soprattutto rock italiani e comunque artisti di nicchia o indipendenti stranieri, hanno vissuto, sono cresciuti e hanno raggiunto una loro identità di rapporto anche con il pubblico italiano, soprattutto grazie ai club. A Napoli il club non esiste, quindi non esistendo il club non si è potuta sviluppare una cultura di partecipazione all'interno del club per la scoperta, la crescita di queste nuove leve italiane e straniere, e quindi a Napoli può arrivare l'artista consacrato e quasi sempre non arriva a Napoli, tranne che non si faccia al Palapartenope o al Teatro Augusteo o in un altro teatro di Napoli, ma finisce quasi sempre per andare o al Palamaggio o al Palasele, quindi al di fuori da quella che è comunque la terza città italiana. Questo non significa che noi operatori ci arrendiamo, nel senso che alla fine se si tirano le somme, almeno per quello che riguarda il mercato italiano, della musica leggera che funziona bene a pagamento, Napoli è inserita per l'80-90% in tutti i circuiti nazionali, ma già se si ragiona di artisti come possono essere Nesli, Marrakesh o questo tipo di artisti che stanno crescendo, Fabri Fibra di tre anni fa, noi non abbiamo in realtà un posto dove proporli. Quest'anno Fabri Fibra è partito al Casa della Musica e poi grazie a, tranne te, piuttosto che altri grossi singoli che hanno funzionato, è arrivato addirittura a fare grossi numeri al Palapartenope. Però se uno avesse dovuto pensare di far crescere Fabri Fibra cinque anni fa, quando al nord faceva comunque 800.000 persone ai club, qui si sarebbe trovato con 100-200 paganti. Veniamo invece alle vostre produzioni, a quelli che sono gli spettacoli che avete proposto lo scorso anno e che cosa proponete quest'anno? L'anno scorso è stato un anno molto difficile, un anno di grossa flessione, d'altra parte il nostro lavoro è fatto sempre di onde altalenanti, nel senso a seconda dei rapporti che noi abbiamo con determinate agenzie, possiamo poi organizzare concerti degli artisti di queste stesse agenzie. L'anno scorso per esempio noi abbiamo fatto pochissimi concerti dal vivo, il cui più importante sono stati Mario Biondi al Teatro Augusteo, e qualcosa d'estate con lo stesso Biondi, con Gigi D'Alessio, ma in realtà abbiamo lavorato veramente poco. Per contro quest'anno invece si sta sviluppando una grossissima mole di lavoro, molto concentrata in questi primi mesi dell'anno, che parte con Panariello all'Augusteo adesso la settimana prossima, lunedì 28, prosegue con Dalla De Gregori subito dopo 1 e 2 marzo, poi con Dalla De Gregori sempre ad Avellino, Grignani alla Caccia, ci sarebbero dovuti essere il 19 e il 20 di marzo i Negramaro, ma come tutti quanti i fan della musica sapranno, Giuliano Sangioci è dovuto operare i record dei vocali, e quindi il tour è stato spostato di 8 mesi, e a Napoli, cioè a Caserta, perché come sempre non parliamo di Napoli, ma di Palamaggio, verrà il 19 e 20 novembre. E poi dopo si continua con i Subsonica, con Alessandra Moroso, e con il musical We We Rock You, che a Napoli si confronta con un pubblico un po' nuovo, e che è un'altra delle nostre tante sfide, nella quale però crediamo, visto che sia a Milano che a Roma, ma anche in posti minori come può essere Trieste o Torino, ha avuto un successo strepitoso. Però per avere informazioni più dettagliate, anche sui prezzi, sulle date precise, sulle location, sugli orari d'inizio e tutt'altro, potete consultare comunque il nostro sito, che è www.concerteria.it. www.concerteria.it.it www.concerteria.it.it